buongiorno oggi vi mostriamo la spesa fatta aerospine allora polpa di pomodoro d'alizia dal sole a pezzetti sono dieci pezzi vedete a 49 centesimi l'uno 4 euro e 90 abbiamo preso poi tramezzini tramezzini e ma non sono messi insieme allora 1 1 e 39 poi 69 panna da cucina fanno da cucina per solo la caro fa la cucina per l'acqua cornetti formaggio 69 questi punti si buonissimi patate pacchi quando le fai metti da un'altra parte c'era già fatta e patrica allora 75 centesimi nella sua tavola nel lusso ci ha avuto a modelli nel luce dove lo abbiamo messo allora non lo so in testa forse si fanno nel luce una tavoletta che c'era il merluzzo qui c'è segnato aspettate le scoppe tornate 89 e un litro e mezzo quindi queste aumentate no aspetta via no è diminuito l'ho fatto lo sconto si vede ma farina farina e la zero zero tre molini a 5 centesimi panna da cucina ce ne sono altri due eccole qua sono questi no quelli si fa la cucina e poi poi olio mais 2 euro e 99 è una delle cose che più è aumentato panna da cucina canto sole panna da cucina 1 2 3 4 4 sono si 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 sono 4 allora riso roma fatti vedere già riso roma eccoli qua milloni riso roma è un chilo cos'è per risulti o per cos'è guarda per tutti per scusa per i tuoi risulti si esatto 1 e 59 poi ancora farina togliela farina a vedere la sì 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 75 centesimi sono 2 tisane a 99 centesimi di una poi olio di mais 2 99 volio di mais 2 99 1 la mia mia ammessa si maresi troppo no ma solo lo so portato yogurt dove lo yogurt prende lo c'è l'ho curta fuoco non ci arrivo io no tranquilla eccolo qua quattro sono 10 metà si sono 10 interi alla frutta no 2 ariana non lo so 1 euro 99 ma c'è scritto quanto sono 8 per 20 125 a sono 8 si vedete il peso di 1 la ciliegia banane fragole e limone sono buonissimi mi piacciono le consiglio tanto il badamento a posto le uova dove l'ho messo ecco le uova fresche allevamento a terra uova 6 uova grande categoria 100 per cento italiane 6 uova delizia del sole 1 euro e 39 delizia del sole sì sì poi questo asciuga tutto ce ne tre tre rotoli e costa 1 euro e 39 assorbe tanto e resiste di più ok queste sono tre rotoli asciuga tutto perfetto questo è 69 no erano due ne abbiamo preso questo qua sulla tavola sull'altra tavola eh ma che su era da far vedere scusa se l'ho fatto vedere ma gli ho fatto vedere eh no no tranquilla focaccia di semola 1 e 33 questo sarebbe eh non sarebbe fisto quanto è quello? io no vi dico focaccia di semola pane di semola ma quant'è al chilo? peso netto per il cento e quattro e sessantanove al chilo quindi è uscito tre etti un euro e quarantuno non è che sia tanto certo vediamo se è buono cipolla dorata cipolla dorata sessantotto centesimi non lo dice il peso e a quanto è? mi pare che era o c'è su? no non lo dice la cassa non c'è nulla l'ha fatta la cassa e basta poi focaccia ancora semola dove l'altra? a quanto l'hai preso? no due quella quant'era? non me la metto dove hai metto? quant'è uno è? 1 e 41 esatto e anche questa no questa è 1 e 31 e me l'ha messa lo stesso 1 e 41 tante grazie come succede va bene il tuo lavoro un'altra volta infatti mozzarella quattro pezzi per 1 e 25 cento per fila vuole vedere bene eccola qui vuole vedere? 2 e 49 l'ho presa altra volta solo per non ho guardato la scadenza guarda assolutamente 15 06 222 si abbiamo bene allora c'è tre zucchine delle fresche vabbè con sorella prezzemolo dove è il prezzemolo? prezzemolo e di là che dà eccolo lì prezzemolo 1 e 19 zucchine sono tre e sono un euro e un centesimo grana padano grana padano grana padano grana padano pascoli italiani grana padano ma quanto è il chilo? sarà da questa parte prezzo al chilo 11,99 5,66 il porto e pesa 472 grammi e io questo grana padano lì in vista è a 9,90 come mai me l'ha fatto pagare così qua? gambe di tramezzini eccoli qua mi sa che l'abbiamo già fatti vedere no ma erano due ah è vera la calzone due patti ve li faccio vedere tramezzini 1,39 1,39 si sono buonissimi un pacco di carote eccola qua vedete 99 centesimi questi quando faccio il riso insalata ne metto un bel po' si e sono buoni e quindi sta più leggero poi altro riso c'è anche eh si c'è quello delle insalate le tue insalate per insalate questo qua che lo prendiamo sempre riso per le tue insalate riso poi banane mi pare che sono cinque banane un euro e quindici centesimi ecco qua è chiesto un'ettare cosa è? non lo so ah melenzale eh si a 1,89 al chilo hanno pesato quattrocento nuova eh quattrocento novantotto grammi al chilo 1,89 1,89 si si allora 94 centesimi dove sono le melenzane ecco ecco qua ecco qua questo aglio italiano di là 1,19 sembra bello sano perché ultimamente non ho ecco carta igienica qual è? questa? soft dream canto quanti? quattro rotoli quattro rotoli quattro rotoli 2,29 2,29 è carissima poi pasta sfoglia l'ho preso pasta sfoglia ce ne vengo quattro un uomo bianco per fare mettere delle verdure e fare una specie di torpa salata sono molto buoni ne ho preso quattro a 99 centesimi 99 centesimi si poi panna spray abbiamo preso due l'ande falla vedere a 1,39 luna poi arance navel quanto so quanti chili sono? 2.000 pare quanto? si vede lo sai ah eccoli qua devo girare che genio che sono pesa 200 2.000 possibile 2.000 vuol dire 2 kg sì 2 kg 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 di spaghetti sempre molino com'è? 3 molini 3 molini 1 euro e 9 centesimi è uscita un'altra cosa eccola qua è uscita a campo si dice in gallura si allora il merluzzo dov'era? si delizie delizie gamberi formaggio frizzate cucina 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 cipolla fanno pagano fanno pagano e dov'è? che l'avevo polpa delizie gamberetti panna formaggio paprika merluzzo eccolo merluzzo 300 grammi 3 euro e 25 eccolo qua questo è il che prima non si trovava eccolo qua questo è il merluzzo da dietro c'è scritto i dettagli e questo sì un attimo e questo è il merluzzo in se in questione eccolo qua lievito di birra ce ne sono due pacchettini da 25 grammi cioè qui dentro ci sono due pacchettini da 25 grammi ognuno costato 20 euro quindi va bene zucchero 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 sono 4 kg 1 2 3 3 quanto l'hai preso? e 1 4 tanto fanno vedere bene questo eccolo qua della dolciando va benissimo è portale 72 e 36 ecco qua 72 euro e 35 centesimi ragazzi vedete 35 come è? 35 centesimi ecco qua si vede? si si vede ok bene ragazze questo era tutto noi ci si vede al prossimo video e alla prossima attivate la campanella seguitemi su instagram ciao buona vita a tutti un augurio per tutti un augurio per tutti da me col cuore che finisca questa guerra tutte le guerre ma questa è la più che ci tocca da vicino eh infatti preghiamo per quel santore che Dio ci assista veramente si Zereschi e tutti in Ucraina abbiamo avuto anche degli amici una nera oh no basta non di altro nulla che per fortuna è in Italia adesso eh dai ok buongiorno a tutti ciao buona vita a tutte ragazze vi adoro vi voglio bene ciao tutto il bene che desiderate ciao dal profondo del mio cuore arrivederci a tutti ciao